Il libro parla dell'internazione nera, Quarto Reich intende questo. La vicenda del libro parte nell'agosto 1944 e arriva a fine giorni nostri in parte di strettissima attualità. Il più grande successo di Odessa è stato quanto è accaduto in Ucraina nel 2013-2014, ovvero del golpe che c'è stato. Molti la chiamano rivoluzione, invece ha tutte le caratteristiche di un golpe, di un colpo di Stato, come quello che è avvenuto in Cile negli anni 70, tanto per capirsi. In Ucraina è successo che gli interessi di Odessa, quindi dell'internazione nera, e gli interessi in quel caso degli Stati Uniti d'America sono perfettamente coincisi. In cosa? Entrambi avevano, gli Stati Uniti avevano bisogno di conquistare terreno a est per toglierlo, alla Russia. Quelli dell'internazione nera volevano appropriarsi di un paese che ritenevano loro, perché queste cose sono anche pregne molto di ideologia, di ricordi del passato e quant'altro. In Ucraina dal 1941 al 1944 c'è stato un regime nazista e le persone che all'epoca, gli ucraini che collaborarono, che governarono in qualche modo, i collaborazionisti di questo regime, poi scapparono tutti all'Ucraina, furono poi presi e portati altrove. Moltissimi di questi finirono negli Stati Uniti. Io racconto nel libro di una città, c'è un capitolo che inizia con un racconto di Parma. Sapete che negli Stati Uniti ci sono sei Roma, dodici Parigi, eccetera, eccetera. C'è anche una città che si chiama Parma, che è alla periferia di Cincinnati. Ecco, Parma è una città di quasi 100.000 abitanti, abitata solo da ucraini. E sono ucraini che all'epoca sono criminali di guerra. C'è gente scappata dall'Ucraina perché andava verso morte certa una volta che l'Unione Sovietica aveva riconquistato il proprio territorio. Queste persone sono vissute nel mito di quei tre anni di regime. L'hanno trasmesse ai loro figli, l'hanno trasmesse ai loro nipoti. Queste persone sono americane, insomma, sono diventate americane a tutti gli effetti, come tutti gli abitanti di quella città di Parma. E hanno fatto, alcuni loro hanno fatto anche carriera all'interno del Dipartimento di Stato, all'interno della CIA, all'interno delle grandi multinazionali e così via. E a un certo punto hanno detto, noi ci riprendiamo il paese, perché l'Ucraina è un paese che deve avere un governo come lo vogliamo noi. Loro si chiamano nazionalisti, ma il loro nazionalismo, se vuoi andare a leggere in un libro riporto la loro ideologia, se vuoi prendere il Mein Kampf, è quello che dicono loro, non è che c'è grande differenza alla fine. Ecco, quindi tra gli Stati Uniti in quel momento e Costoro c'era questa unità di intenti, in più c'era un'altra cosa, un altro fortissimo collante, il fatto che tutte e due avevano una forte spinta antirussa. Lasciamo perdere i motivi di uno o dell'altro, ma avevano una forte spinta antirussa. Questo enorme collante ha fatto sì che venisse organizzato negli Stati Uniti un colpo di Stato in Ucraina, grazie all'apporto, alla manualanza di tutti gli, io le chiamo squadracce, insomma, di tutti questi gruppi di estrema destra apertamente nazisti, perché spesso si dà del fascista a chiunque sia il liberale. No, per me i fascisti sono persone che credono, che ne so, nello stesso credo di Mussolini, quelli sono i fascisti, non sono quelli di liberale. Credevano una forte radice ideologica nazionalsocialista. I nazisti sono nazisti, non sono nazisti, gente semplicemente che ha poca voglia di democrazia, gente apertamente nazista, che in Ucraina nel corso degli anni, proprio grazie a questo passato, a queste infiltrazioni di Odessa, anche come partiti politici in alcune zone in Ucraina, ha superato il 30% dei voti nella zona di Leopoli, quella diciamo l'estremo occidente ucraino, quello vicino alla Polonia. Allora, questi gruppi paramilitari sono stati la manovalanza di questa enorme organizzazione che c'è stata dietro, e hanno fatto quel che si è fatto in tutti gli altri corpi di Stato. Io prima ho parlato del Cile e di Pinochet. Perché? Perché è avvenuto qualcosa di molto simile in Ucraina, nel 2013-2014, anche con quello che è accaduto dopo, ovvero la sparizione, i famosi desaparecidos, la sparizione delle persone, la caccia all'uomo, la totale illiberalità di tutte le regole che sono state pissate dopo la presa del potere del nuovo governo ucraino. La cosa incredibile è che l'Italia, l'Europa e tutto il mondo democratico ha fatto passare questo golpe come una rivoluzione democratica a favore di una maggiore democrazia nel paese. Io racconto nel primo capitolo, perché io ho due capitoli sull'Ucraina, uno in cui parlo di me stesso, perché ho avuto una disavventura, non stato arrestato io in Ucraina, semplicemente con un'accusa quasi surreale. L'accusa, il mio reato era di essere nemico del popolo ucraino. Allora, un reato del genere... Ma ricordo male, stiamo parlando del 2017-2018... 2015, io veni arrestato nel 2015. Perché poi ricordo, se non sbaglio, nel 2017-2018, l'Ucraina, se non sbaglio, ha etichettato, ha diffuso l'ammunizione, non so come chiamarla, nei confronti di Giulietto Chiesa e di Giorgio Bianchi come personaggi non graditi all'interno di quel paese. O ricordo male? No, 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 ricordi benissimo. Questi reati d'opinione, essere nemico del popolo, va a pensare alla Corea del Nord, non a un paese europeo. Cioè, non è degno di un paese europeo, tantomeno di un paese che si dice democratico. Non è vero che l'Ucraina ha fatto richiesta di entrare in Unione Europea, ha fatto richiesta di entrare nella Nato. Allora, stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del fatto che l'Italia ha, insieme all'Europa, ha fatto delle sanzioni alla Russia per quanto è accaduto in Ucraina che gravano per miliardi e miliardi ogni anno sulle nostre aziende. Perché lo ritenevano una cosa giusta e importante. Allora, le sanzioni si possono giustamente dare a un paese per qualcosa di serio, ma se si danno in appoggio a un regime nazista, beh, insomma, le cose cambiano. Allora, io dicevo, nel capitolo in cui racconto di me, a un certo punto, quando vengo liberato, i nostri diplomatici, voi sapete quanto sono paludati nei loro racconti diplomatici, i diplomatici non si sbilanciano mai, è tutto tranquillo, tutto calmo, non dicono mai una cosa fuori posto. Bene, i nostri diplomatici hanno definito, mi hanno, raccontandomi di cos'era l'Ucraina del 2015, per farmi capire meglio, mi hanno detto la seguente frase, lei ha presente il Cile di Pinochet, questa era l'Ucraina del 2015. l'Ucraina del 2015.